Allora mister, diciamo qual è la sua impressione al termine di questo incontro terminato uno a uno con parecchi diciamo su movimenti di gioco tra primo e secondo tempo? Beh innanzitutto che questa ternana non è morta, che questa ternana se la gioca con tutti, che questa ternana quando sta in campo e sta in difficoltà come lo siamo stati nel primo tempo perché avevo chiesto dei movimenti diversi agli attaccanti sulla prima fase di difesa e loro rimanevano centrali invece devono stare aperti larghi sui loro tersini e siamo andati in difficoltà e quando ho visto che la situazione non riusciamo a riprendere ho dovuto cambiare un atteggiamento tattico fino ad arrivare a un atteggiamento spregiudicato con le due punte centrali e i due esterni dove la ternana poi nella seconda parte del secondo tempo leviamo il forse e meritava qualcosa di più di un pareggio. Mister, ieri hai lanciato qualche frecciatina alla stampa ternana però hai loggiato come sempre i diffusi rosso-verdi. Oggi l'ha letto lo striscione in curva est? No, non l'ho letto perché non ci vedo. Se me lo dici, che diceva? Diciamo che è un'interpretazione molto dialettale diciamo che il boccino che va vicino alla boccia non permette così di vincere la partita. Sì ma permette di fare un punto quando metti la palla vicino al boccino fai un punto e noi piano piano oggi dobbiamo fare un punto perché questa squadra forse riesce a dare questo però noi siamo, io penso, con questa rosa non stiamo demeritando non siamo una squadra che vi fa fare figuracce non siamo una squadra che ci prende una pallona agli avversari non siamo una squadra che rubicchiamo un punto siamo una squadra che di 12 pareggi io penso che più della metà questa ternana li poteva portare a casa come vittorie con un po' più di esperienza con un po' più di attenzione con un po' più anche di fortuna perché nel calcio ci vuole un po' di fortuna io sono molto fiducioso su questa squadra adesso mancano tre partite alla fine del campionato poi dopo queste tre partite come ha detto il padron diamo quattro partite e vediamo come stiamo e poi ne riparliamo io penso una cosa che dal primo giorno di ritiro ad oggi io penso che nessuno di voi pensava che la ternana se la potesse giocare con tutti e se voi siete arrabbiati perché magari siamo stati raggiunti in dei pareggi all'ultimo secondo perché avete fatto una statistica ma non so quale testata e avete visto che la ternana poteva stare un altro con chi ve la volete prendere? a questo punto anche i tifosi sono così soddisfatti no ma i tifosi allora scusate i tifosi pagano perché parla sempre della stampa perché voi non siete parziali perché voi rispetto agli altri giornalisti vengono venite e non ci fate non ci fate pensare ci fate pensare gli errori e non ci elogiate sulle cose buone se tu mi fai una partita che mi parli dal novantunesimo minuto e ti dimentichi i novanta minuti a me questo mi dà fastidio perché siete i terni poi giro il canale vedo le altre tv nel derby e parlano tutti bene ci hanno ridicolizzato una squadra così allora io voglio perché voi andate a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto e non vedete il bicchiere mezzo pieno perché ci dovete aiutare voi lo sapete avete visto il calcio avete visto i calciatori forti qua a Terni mi sembra mi sbaglio adesso vediamo uno striscione che hanno messo i tifosi quindi oggi mi do un cazzacchio i tifosi i tifosi innanzitutto pagano il biglietto e pagano di quello che gli pare che cosa va bene allora soddisfatto della prestazione di Bombaci sono stato molto soddisfatto e mi dispiace che l'ho cambiato però era una scelta dovuta che non poteva reggere 90 minuti e dovevo fare qualche cosa perché la squadra non capiva la squadra avversaria quindi dovevamo cambiare atteggiamento e se voi avete visto quando abbiamo cambiato atteggiamento negli ultimi 15 minuti del primo tempo la Ternana ha creato 2-3 situazioni che li ha messi in difficoltà per poi non parlare del secondo tempo dove con l'ultimo cambio con Tiscione dove abbiamo giocato con due punte centrali c'era una squadra solo in campo che era la Ternana allora hanno fatto un carcio d'angolo su una mischia dove la palla è rimasta lì ma la Ternana ha avuto 3-4 situazioni che poteva realizzare il gol della vittoria ha giocato la pari oggi la Ternana con il Parma forse meritava qualcosina in più ma anche col Perugia anche col Pescara anche col Tremonese valutiamo la partita di oggi anche con le altre squadre che abbiamo pareggiato la Ternana ha giocato in superiorità perché oggi e voi parlate sempre sicuramente prendiamo gol perché è allenatore ingenuo oggi un allenatore come Tessera ha preso a 15 secondi dalla fine e un allenatore come Gattuso che è stato campione del mondo ha preso un gol al quinto minuto di recupero sul gol di un portiere il calcio è questo non date giudizi troppo affrettati perché qui mi sembra questo qui è facile sparare sulla Croce Rossa nei momenti di difficoltà vedete il bicchiere mezzo pieno perché ci potete dare una mano perché se voi vedete sempre il bicchiere mezzo vuoto sempre mezzo vuoto mezzo vuoto poi alla fine oggi se avessimo vinto oggi tutti quei bicchieri mezzo vuoti che voi vedete diventano tutti mezzi pieni se avessimo perso tutti i bicchieri che io vedo mezzo pieni erano tutti mezzi vuoti ma non gliel'ha detto nessuno ma non gliel'ha detto nessuno nel mezzo vuoto il bicchiere l'avete detto voi con i commenti che avete fatto adesso di oggi oggi avete parlato perché siccome v'ho sculacciato e allora v'ho sculacciato e questa qui e questa qui va dato un po' fastidio un po' fastidio perché ogni tanto bisogna sculacciare pure a voi no non ce l'ha fastidio niente noi mettiamo fine a questa polemica non è una polemica non è una polemica sterile io ti ho sentito parlare in televisione e te parli e te parli o scusa o lei parla no no dammi tu perché mi hanno detto non c'è problema gli devi dare del lei no a me mi parlate tu allora siccome è un conoscitore di calcio però mi piacerebbe che ogni tanto analizzate la partita dal primo minuto al novantasesimo ma certo questo qui è questo e io questo è quello che chiedo e elogiate una squadra elogiate una squadra che sapete le grandi difficoltà e voi dentro di voi lo sapete che questa squadra doveva avere meno punti di quelli che abbiamo ma soprattutto nelle prestazioni che noi abbiamo sorpreso perché nelle prestazioni questa squadra ha sbarellato solamente a Bari e sono 18 partite non 3 partite 18 partite questa squadra ha sbarellato solamente a Bari grazie grazie a voi grazie a voi